Ora riposa. Dormirò tutto l'inverno. Ok, può andare. Dormi. Sto già dormendo. Che cos'era? Il tuo arco. Chi sei tu? Atreus, sei pronto? Sì, ho fatto un sogno assurdo. Il Fimbulwinter era finito. E Thor era venuto a cercarci, qui a casa. Era solo un sogno. Ma sembrava diverso. Sembrava reale. Sembrava... Il futuro. Allora ce ne occuperemo domani. Oggi... Sì, dobbiamo fare altre cose. Vieni. Vieni. Vieni.